le statistiche dicono che già a sette anni il sistema immunitario di un gatto comincia a indebolirsi dimentica le statistiche ora c'è yams yams senior aiuta a rinforzare il sistema immunitario del tuo gatto yams è un alimento completo e bilanciato in ogni fase della sua vita per essere attivi insieme giorno dopo giorno yams una vita di benessere e un chilo di yams equivale a 24 lattine per questo conviene